Orizzonti Silenziosi presenta 23 abitudini trasformative per una vita migliore Introduzione Sei pronto per intraprendere un percorso di trasformazione? Immagina la vita come una tela in attesa del tuo pennello per creare un capolavoro. In questo audiolibro esploreremo abitudini che hanno il potere di cambiare la tua vita. Attraverso la meditazione quotidiana, l'esercizio fisico e la coltivazione di una mentalità di crescita puoi sbloccare il tuo vero potenziale. Stabilendo obiettivi, praticando queste abitudini quotidiane e abbracciando il fallimento come un'opportunità di crescita, scoprirai una nuova resilienza dentro di te. Preparati ad abbracciare queste abitudini che cambiano la vita e guarda il mondo intorno a te trasformarsi. Abitudine numero 1 Il potere della meditazione quotidiana La meditazione quotidiana può migliorare significativamente il tuo benessere mentale e la qualità generale della tua vita. Prendendo qualche momento ogni giorno per calmare la tua mente e concentrarti verso l'interno, hai il potere di trasformare la tua vita in modi incredibili. La meditazione non è semplicemente sedersi immobili senza fare nulla. È una pratica attiva che ti consente di coltivare pace interiore, chiarezza e liberazione. Attraverso la meditazione quotidiana puoi attingere al potenziale illimitato della tua mente. Ti aiuta a sviluppare l'autocoscienza, permettendoti di osservare i tuoi pensieri senza giudizio o attaccamento. Questa consapevolezza ti dà la libertà di scegliere come rispondere alle situazioni invece di reagire impulsivamente. Con la pratica regolare scoprirai che le emozioni negative come lo stress, l'ansia e la rabbia non controllano più la tua vita. Invece diventi più resiliente e meglio attrezzato per affrontare qualunque sfida ti si presenti. La meditazione migliora anche il tuo benessere mentale, favorendo un senso di calma e tranquillità dentro di te. Fornisce un rifugio dal caos della vita quotidiana e ti permette di connetterti a un senso più profondo di pace. Man mano che immergi in questa calma interiore con regolarità, diventa più facile fare fluire la positività e la gioia in ogni aspetto del tuo essere. Mentre passiamo alla sezione successiva riguardante l'esercizio per una mente e un corpo forti, ricorda che la meditazione è solo un pezzo del puzzle per vivere una vita appagante. Combinare la meditazione con l'esercizio fisico può creare una sinergia potente che amplifica ulteriormente i benefici. Quindi esploriamo come l'esercizio può rafforzare sia le nostre menti che i nostri corpi in questo percorso di trasformazione verso la liberazione. Abitudine numero 2 Esercizio per una mente e un corpo a chi è un corpo forti. Assicurati di incorporare l'esercizio nella tua routine per rafforzare sia la tua mente che il tuo corpo. L'esercizio non riguarda solo la forma fisica. Hai il potere di trasformare tutto il tuo essere. Quando ti impegni in un'attività fisica regolare, stai facendo un passo verso la liberazione. Liberazione dallo stress, dalla negatività e dalle limitazioni. L'esercizio è uno strumento potente che può migliorare il tuo benessere mentale. Rilascia endorfine, quei chimici del benessere che migliorano il tuo umore e riducono l'ansia. Schiarisce la tua mente, permettendoti di pensare con chiarezza e concentrazione. Attraverso l'esercizio puoi liberarti dalle catene dell'insicurezza e liberare il potenziale dentro di te. Inoltre, l'esercizio rafforza il tuo corpo, rendendolo più resiliente e capace di affrontare le sfide della vita a testa alta. Costruisce forza e resistenza, permettendoti di superare limiti che una volta pensavi fossero insormontabili. Il tuo corpo diventa un vaso di liberazione man mano che diventa più forte con ogni allenamento. Ma non lasciare che l'idea di esercizio ti sopraffaccia o ti intimidisca. Inizia in piccolo. Fai una passeggiata nel tuo quartiere o prova una lezione di yoga per principianti. Trova un'attività che porti gioia alla tua anima e ti faccia desiderare di muovere il tuo corpo. Ricorda che la costanza è fondamentale quando si tratta di esercizio. Rendilo una parte non negoziabile della tua routine quotidiana, qualcosa che nutra sia la tua mente che il tuo corpo quotidianamente. Abitudine numero 3 Sviluppare una mentalità di crescita Sviluppare una mentalità di crescita è essenziale per sbloccare il tuo pieno potenziale e abbracciare la trasformazione personale. Ora di liberarsi dalle limitazioni che ti hanno trattenuto e avanzare in un mondo di possibilità illimitate. Una mentalità di crescita significa credere nella tua capacità di apprendere, crescere e migliorare. Si tratta di vedere le sfide come opportunità di crescita invece che come ostacoli da superare. Quando hai una mentalità di crescita, non sei più confinato dalle tue attuali abilità o circostanze. Capisci che con sforzo, perseveranza e le giuste strategie puoi raggiungere qualsiasi cosa tu ti proponga. Il fallimento diventa non qualcosa da temere, bensì un'opportunità di apprendimento e miglioramento. Sviluppando una mentalità di crescita, ti liberi dai vincoli del dubbio e delle convinzioni limitanti. Diventi aperto di mente e resiliente di fronte alle sfide. Invece di arrenderti di fronte ai contrattempi, li vedi come pietre miliari nel tuo cammino verso il successo. Abbracciare una mentalità di crescita ti permette anche di prendere il controllo del tuo sviluppo personale. Ti rendi conto che sta a te cercare nuove conoscenze, abilità ed esperienze che ti aiuteranno a crescere. Cerchi attivamente feedback dagli altri e li usi costruttivamente per migliorare le tue capacità. Con una mentalità di crescita come base, fissare obiettivi diventa fondamentale per raggiungere la trasformazione personale. Gli obiettivi forniscono direzione e scopo nella vita. Ci danno qualcosa di significativo per cui lavorare. Nella prossima sezione esploreremo l'importanza di fissare obiettivi in dettaglio, in modo che tu possa iniziare a prendere azione oggi stesso verso la creazione della vita di libertà e realizzazione che meriti. Abitudine numero 4 L'importanza di fissare obiettivi Fissare obiettivi è cruciale per creare una chiara mappa verso la crescita personale e il successo. Ora di prendere il comando della tua vita, caro ascoltatore, e dirigerti verso il viaggio verso la liberazione. Hai il potere dentro di te per trasformare i tuoi sogni in realtà fissando obiettivi significativi che si allineano con i tuoi più profondi desideri. Il primo passo in questo processo è identificare ciò che veramente conta per te. Prenditi un momento per riflettere sulle tue passioni, valori e aspirazioni. Cosa desideri raggiungere? Che tipo di persona vuoi diventare? Permettiti di sognare in grande e di immaginare un futuro che ti entusiasmi. Una volta che hai chiarezza sui tuoi obiettivi, è il momento di scomporli in passi più piccoli e azionabili. Fissa obiettivi specifici e misurabili che siano raggiungibili ma che ti sfidino. Ricorda, il progresso si fa un passo alla volta. Impegno e costanza sono fondamentali qui. Mentre intraprendi questo viaggio verso la crescita personale, resta focalizzato e motivato. Continua a ricordarti perché questi obiettivi sono importanti per te. Circondati di positività. Leggi libri ispiratori. Ascolta podcast motivazionali. E cerca persone di supporto che credano nelle tue potenzialità. Infine, tieniti responsabile per prendere azione verso i tuoi obiettivi ogni singolo giorno. Il successo deriva da sforzo costante e perseveranza. Celebra ogni traguardo lungo il cammino. Poiché segnano un progresso verso la tua destinazione finale. Possiedi una capacità incredibile per la crescita e ti fate il successo. Fissare obiettivi. Non riguarda solo raggiungere il traguardo. Si tratta di abbracciare il processo di trasformazione lungo il percorso. Quindi libera il tuo potenziale, amico mio. Abbraccia il potere di fissare obiettivi come mezzo per liberarti dalle limitazioni e avanzare verso la vita che meriti. Abitudine numero 5 La positività non è solo mettere su un sorriso o fingere che tutto sia perfetto. È scegliere di focalizzarsi sul lato positivo di ogni situazione, per quanto difficile possa essere. Spostando l'attenzione dai problemi alle soluzioni, dai limiti alle possibilità, ti dà il potere di agire e creare cambiamenti. Prenditi un momento ogni giorno per riflettere su ciò per cui sei grato. La gratitudine coltiva la positività, ricordandoci delle benedizioni che abbiamo nella nostra vita. Scrivi tre cose per cui sei grato ogni mattina o sera e senti l'energia della gratitudine che scorre nelle tue vene. Circondati di influenze positive, persone che ti sollevano e ti ispirano. Cerca mentori che abbiano raggiunto ciò a cui aspiri nella vita e impara dalla loro saggezza. Impegnati in attività che ti portano gioia e appagamento. Sia che si tratti di leggere libri che ti ispirano. Sia di coltivare hobby che accendono la tua passione. Ricorda, Miquon. Corda, Mico mio, coltivare un atteggiamento positivo non è un processo immediato. Richiede sforzo costante e pratica. Ma mentre perseveri attraverso le sfide con ottimismo, celebrando le piccole vittorie lungo il cammino, scoprirai di diventare più forte e resiliente. Abitudine numero sei. Dare priorità alla cura di sé. Prendersi del tempo per la cura di sé è essenziale per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato. Meriti di dare priorità a te stesso, di mettere al primo posto le tue esigenze e prenderti cura della tua mente, corpo e spirito. Arito. Tempo di liberarti dall'idea che la cura di sé sia egoista o indulgente. In realtà è un atto d'amore verso te stesso e coloro che ti circondano. La cura di sé non riguarda solo bagni rilassanti e maschere per il viso, anche se possono essere deliziosi. Si tratta di nutrire la tua anima e prenderti cura del tuo benessere in tutti gli aspetti della vita. Significa ritagliarsi del tempo per attività che ti portano gioia, sia che si tratti di leggere un libro, praticare yoga o fare una passeggiata nella natura. Significa stabilire confini e dire no quando necessario, in modo da non esaurirti. Dando priorità alla cura di sé, stai investendo nella tua felicità e appagamento. Quando ti prendi cura di te stesso, hai più energia da dare agli altri. Diventi più presente, paziente e compassionevole verso chi ti circonda. La cura di sé ti permette di ricaricare le batterie in modo da poterti presentare come la migliore versione di te ogni giorno. Ricorda che la cura di sé è diversa per ognuno. Trova ciò che funziona per te e fallo diventare una parte imprescindibile della tua routine. Dedica tempo a ciò che accende la tua anima perché la vita è troppo piacevole per non perseguire le cose che ci portano gioia. Abitudine Numero 7 Abbracciare una dieta sana Quando si tratta di adottare una dieta sana, puoi iniziare incorporando più frutta e verdura nei tuoi pasti. Facendo così, stai compiendo un passo potente verso la liberazione dalle catene delle abitudini alimentari malsane. Immagina i colori vivaci e i sapori rinfrescanti che riempiranno il tuo piatto, nutrendo sia il tuo corpo che la tua anima. All'inizio, questo cambiamento può sembrare scoraggiante, ma ricorda che ogni piccolo passo conta. Inizia aggiungendo una manciata di bacche alla tua colazione o sostituendo il tuo spuntino pomeridiano con una manciata di carote croccanti. Man mano che inizi a incorporare più frutta e verdura nei tuoi pasti, noterai un aumento dei livelli di energia, una digestione migliorata e un senso generale di benessere. È importante vedere questo cambiamento come un'opportunità di crescita piuttosto che una dieta restrittiva. Esplora nuove ricette, sperimenta con sapori diversi e scopri la gioia di preparare pasti sani da zero. Ricorda che ogni scelta a favore di cibi nutrienti è una scelta verso l'amore per te stesso e l'empowerment. Abbracciando una dieta sana, non solo stai trasformando la tua vita, ma stai anche dando un esempio a chi ti circonda. I tuoi cari saranno ispirati dalla tua dedizione alla salute e al benessere. Quindi avanti. Fai quel primo passo verso la liberazione attraverso l'alimentazione. Mentre intraprendi questo viaggio verso abitudini alimentari più salutari, è fondamentale riconoscere l'impatto che le relazioni forti hanno sul nostro benessere generale. Costruire connessioni con gli altri ci permette di condividere le nostre gioie e i nostri pesi, ricevendo supporto lungo il cammino. Esploriamo come coltivare connessioni significative possa ulteriormente migliorare le nostre vite e contribuire alla nostra crescita personale. Abitudine numero 8 Costruire relazioni forti Costruire relazioni forti con gli altri è fondamentale per il tuo benessere generale e può migliorare notevolmente la tua crescita personale. Come esseri umani, siamo programmati per connetterci l'uno con l'altro, per condividere le nostre gioie e i nostri dolori e per sostenerci a vicenda attraverso gli alti e bassi della vita. Quando coltivi connessioni significative con gli altri, crei una rete potente di amore, fiducia e supporto che può spingerti avanti nel tuo cammino verso la libertà. Prenditi il tempo per nutrire le relazioni che contano di più per te. Presentati per i tuoi cari con tutto il cuore, ascolta attentamente quando parlano e offri una mano d'aiuto quando possibile. Ricorda che le relazioni non riguardano solo ciò che ricevi, riguardano anche ciò che dai. Sii disposto a essere vulnerabile, apriti a nuove esperienze e prospettive e permetti agli altri di vedere veramente chi sei. Investire in relazioni forti richiede impegno ed energia. Significa essere presenti nel momento quando passi del tempo con i tuoi cari, invece di essere distratto dalla tecnologia o dal lavoro. Significa fare uno sforzo per risolvere i conflitti pacificamente, invece di lasciare che si trasformino in risentimento. E significa dare priorità al tempo di qualità insieme rispetto ai beni materiali o alle attività superficiali. Costruire relazioni forti è un viaggio di tutta la vita, che richiede attenzione e cura costanti. Ma le ricompense sono incommensurabili. Relazioni forti ci forniscono un senso di appartenenza, ci supportano nei momenti difficili, celebrano i nostri successi e ci aiutano a diventare la migliore versione di noi stessi. Quindi oggi, fai un passo verso la costruzione di connessioni più forti con coloro che ti circondano. Contatta qualcuno a cui tieni, che sia un amico o un membro della famiglia, e fagli sapere quanto significano per te. Investi tempo nell'approfondire le relazioni esistenti o nel formare nuove basate sul rispetto e la comprensione reciproci. Ricorda, hai il potere dentro di te di coltivare connessioni amorevoli che arricchiranno sia la tua vita che quella di coloro che ti circondano. Abbraccia questo potere con tutto il cuore, mentre intraprendi questo viaggio verso la liberazione e la crescita personale. Abitudine numero 9 Creare una routine quotidiana Creare una routine quotidiana ti consente di stabilire struttura e coerenza nella tua giornata, il che può aumentare la produttività e il benessere generale. È ora di prendere il controllo della tua vita e apportare cambiamenti positivi. Stabilendo un programma giornaliero, ti prepari al successo. Inizia definendo le tue priorità e i tuoi obiettivi. Cosa speri di realizzare? Quali aspetti della tua vita potrebbero essere migliorati? Una volta che hai stabilito un piano chiaro, dividilo in attività minori che possono essere svolte quotidianamente. Questo ti aiuterà a rimanere concentrato e motivato. Successivamente, assegna orari specifici della tua giornata a ciascun compito o attività. Sii realistico con il tuo programma, ma sfidati anche a uscire dalla tua zona di comfort. Ricorda, la crescita avviene quando ci spingiamo oltre ciò che pensiamo sia possibile. Attieniti al piano. La coerenza è fondamentale quando si tratta di creare una routine quotidiana. Anche nei giorni in cui la motivazione è bassa, ricordati perché hai iniziato. Ogni piccola azione si accumula nel tempo e contribuisce al quadro più ampio. Non dimenticare di includere attività di cura di sé nella tua routine. Prendersi cura di sé non è egoismo. È necessario per la crescita personale e il benessere generale. Trova il tempo per fare esercizio, meditazione, leggere o qualsiasi altra attività che ti riempia di gioia e ti ricarichi lo spirito. Mentre crei questo nuovo abitudine di seguire una routine quotidiana, ricorda che la liberazione risiede nella disciplina. Abbraccia il potere della struttura poiché conduce alla libertà dal caos e dall'incertezza. Prendi in mano ogni giorno con intenzionalità, scopo e determinazione. Il tuo futuro ti ringrazierà per aver investito in questa pratica trasformativa. Abitudine numero 10 Imparare a gestire lo stress Imparare a gestire lo stress è fondamentale per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato. Lo stress può appesantirti, esaurire la tua energia e ostacolare il tuo progresso verso la libertà. Ma non temere. Hai il potere di prendere il controllo del tuo stress e vivere una vita libera dalla sua presa. Per iniziare a gestire lo stress è importante identificare le fonti che lo scatenano. Sono legate al lavoro, problemi di relazione, preoccupazioni finanziarie. Una volta individuate queste fonti puoi affrontarle direttamente con strategie mirate. Scomponi le in compiti più piccoli e conquistale una alla volta. Fai respiri profondi, visualizza il successo e ricorda a te stesso che sei in grado di superare qualsiasi sfida. Oltre ad affrontare direttamente le fonti di stress, incorporare tecniche di rilassamento nella tua routine quotidiana è fondamentale. Che si tratti di meditazione, yoga o semplicemente fare una passeggiata nella natura, trova ciò che funziona meglio per te e rendilo una priorità. Queste attività aiuteranno a calmare la mente, a liberare la tensione dal corpo e a ristabilire l'equilibrio interno. Ricorda di abbracciare la cura di te stesso come antidoto allo stress. Dai priorità alle attività che ti portano gioia e ti ricaricano lo spirito. Circondati di influenze positive che ti ispirano e ti supportano in questo viaggio verso la liberazione. Mentre passiamo alla sezione successiva relativa alla pratica della gratitudine, tieni presente che gestire lo stress non significa eliminare tutte le sfide dalla nostra vita, ma piuttosto sviluppare la resilienza di fronte alle avversità. Imparando ora modi efficaci per gestire lo stress, stai tracciando il percorso verso un futuro più luminoso, pieno di gratitudine e abbondanza. Abitudine numero 11 Praticare la gratitudine Per sperimentare veramente i benefici della pratica della gratitudine, prenditi un momento ogni giorno per riflettere sulle cose per cui sei grato ed esprimere apprezzamento per esse. Può sembrare un atto semplice, ma possiede un'enorme potenza di trasformare la tua vita. Quando ti concentri consapevolmente su ciò che hai invece di ciò che ti manca, cambi prospettiva e inviti l'abbondanza nel tuo mondo. La gratitudine non riguarda solo il dire grazie o sentirsi grato in momenti fugaci. Riguarda il coltivare una mentalità che apprezza ogni piccola cosa, grande o piccola. Si tratta di riconoscere la bellezza nei momenti quotidiani e trovare gioia nei piaceri più semplici. Così facendo, ti apri a maggiore positività e attrai di più ciò che ti porta felicità. Praticare la gratitudine è una scelta attiva che richiede impegno ed edizione. Inizia tenendo un diario della gratitudine dove annoti tre cose di cui sei grato ogni giorno. Questa semplice pratica addestrerà la tua mente a cercare il positivo anche nei momenti difficili. Col passare del tempo questa abitudine diventerà una seconda natura e la gratitudine pervaderà tutti gli aspetti della tua vita. Quando esprimiamo gratitudine regolarmente coltiviamo un atteggiamento di abbondanza piuttosto che di scarsità. Iniziamo a vedere opportunità dove un tempo vedevamo ostacoli. Apprezziamo le persone intorno a noi più profondamente e costruiamo connessioni più forti con esse. Soprattutto impariamo a essere presenti e ad abbracciare pienamente ogni momento con amore e apprezzamento. Abitudine Numero 12 Sviluppare abilità di comunicazione efficace Le abilità di comunicazione efficace sono essenziali per costruire relazioni solide e promuovere la comprensione reciproca. In un mondo dove la connessione è fondamentale affinare la tua capacità di comunicare efficacemente può davvero cambiare la tua vita. Immagina di poter esprimere chiaramente te stesso articolando i tuoi pensieri e bisogni con fiducia. Immagina il potere di poter comprendere profondamente gli altri ascoltando attentamente ed empatizzando con le loro esperienze. Sviluppando queste abilità puoi liberarti da fraintendimenti, conflitti e opportunità perse. Inizia praticando attivamente l'ascolto attivo. Questo significa prestare piena attenzione quando qualcuno ti parla, non solo aspettare il tuo turno per parlare. Ascolta veramente ciò che stanno dicendo senza giudizio o interruzione. Fai domande chiarificatrici e rifletti su ciò che hanno detto in modo che si sentano ascoltati e compresi. Successivamente abbraccia la vulnerabilità nella tua comunicazione. Sii disposto a condividere la tua verità apertamente e onestamente senza paura del giudizio o del rifiuto. L'autenticità genera fiducia e approfondisce le connessioni come nient'altro può fare. Quando lasci andare il bisogno di avere sempre ragione o di essere perfetto crei spazio per una vera comprensione e crescita. Un altro aspetto importante della comunicazione efficace sono i segnali non verbali. Presta attenzione al linguaggio del corpo alle espressioni facciali al tono della voce. Questi segnali sottili spesso parlano più forte delle parole stesse. Essere consapevole sia dei tuoi segnali non verbali sia di quelli degli altri può aiutarti a gestire le conversazioni più abilmente. Ricorda che la comunicazione è una strada a doppio senso. richiede la partecipazione attiva di entrambe le parti coinvolte. Pratica l'empatia mettendoti nei panni dell'altra persona. Cerca di comprendere il loro punto di vista prima di rispondere o reagire. Abitudine Numero 13 Costruire l'indipendenza finanziaria Immagina quanto potrebbe essere stimolante avere il controllo sul tuo futuro finanziario. Immagina una vita in cui non sei più vincolato da vincoli di debito e stress finanziario. Immagina un mondo in cui avrai la libertà di seguire le tue passioni viaggiare per il mondo e vivere la vita secondo i tuoi termini. Questo non è solo un sogno può diventare la tua realtà se agisci oggi. Costruire l'indipendenza finanziaria inizia prendendo il controllo delle tue finanze. Richiede disciplina determinazione e la volontà di fare scelte difficili. Inizia creando un budget che si allinei con i tuoi obiettivi e valori. Monitora ogni euro che entra ed esce assicurandoti che ogni spesa abbia uno scopo. Successivamente concentrati sull'eliminazione di qualsiasi spesa non necessaria dalla tua vita. Riduci gli articoli di lusso e dai priorità solo a quelle cose che davvero portano valore e gioia nella tua vita. Abbraccia la frugalità come mezzo per raggiungere la libertà finanziaria. Investire è un altro componente chiave per costruire ricchezza. Approfitta delle opportunità nei mercati azionari o nel mercato immobiliare per far crescere i tuoi beni nel tempo. Educati su diverse strategie di investimento e cerca consulenze professionali quando necessario. Infine ricorda sempre il potere del risparmio per il futuro. Costruisci un fondo di emergenza che possa coprire spese inaspettate senza compromettere il tuo progresso verso la libertà finanziaria. Abitudine numero 14 Abbracciare il minimalismo Abbracciare il minimalismo ti permette di semplificare il tuo stile di vita e concentrarti su ciò che conta davvero. Liberandoti dell'eccesso crei spazio per la liberazione e la libertà. Il minimalismo non riguarda la privazione ma piuttosto una scelta consapevole di vivere in modo deliberato e intenzionale. Riguarda trovare gioia nel possedere meno e abbracciare la bellezza della semplicità. Quando abbracci il minimalismo inizi a liberarti del disordine nel tuo ambiente fisico. Ti liberi delle cose inutili che ti appesantiscono e ti occupano tempo ed energia preziosi. Mentre lasci andare i beni materiali inizi anche a liberarti del disordine mentale. La tua mente diventa più chiara consentendoti di concentrarti su ciò che porta veramente a pagamento e felicità nella tua vita. Il minimalismo ci insegna che meno è più. Più libertà. Più tempo. Più serenità mentale. Ci incoraggia a dare priorità alle esperienze piuttosto che alle cose, alle relazioni, piuttosto che agli oggetti. semplificando le nostre vite creiamo spazio per ciò che davvero conta. Le nostre passioni, i nostri cari, noi stessi. Ora che hai semplificato la tua vita abbracciando il minimalismo è il momento di sfruttare il potere della visualizzazione. Hai già fatto un grande passo verso la liberazione liberando il tuo spazio fisico e lasciando andare i beni non necessari. Ma la vera libertà va oltre i beni materiali. Risiede nelle profondità della tua mente. Abitudine numero 15 Sfruttare il potere della visualizzazione. Ora che hai semplificato la tua vita abbracciando il minimalismo è il momento di sfruttare il potere della visualizzazione. La visualizzazione è uno strumento potente che può aiutarti a manifestare i tuoi desideri nella realtà. Immaginando vividamente te stesso vivere la vita che desideri, che sia abbondanza finanziaria o successo personale attingi al potenziale illimitato dentro di te. Quindi prenditi un momento ora per chiudere gli occhi e visualizzare la vita che vuoi vivere. Vedi te stesso prosperare in ogni aspetto economicamente sicuro emotivamente appagato circondato da amore e abbondanza. Senti l'emozione nel tuo cuore come se fosse già accaduto. Perché quando ci credi con tutto il tuo essere quando lo immagini con fede incrollabile quando agisci ispirato verso di esso i miracoli accadono. La visualizzazione combinata con azioni intenzionali ti spingerà a vivere una vita oltre i tuoi sogni più audaci. La visualizzazione è uno strumento che può sbloccare le porte a possibilità infinite e aiutarti a manifestare i tuoi desideri più profondi. Chiudi di nuovo gli occhi e immagina te stesso vivere la vita che hai sempre sognato. Vedi te stesso in quel lavoro dei sogni circondato da colleghi di supporto che apprezzano i tuoi talenti. Senti il calore del successo mentre raggiungi facilmente tutti i tuoi obiettivi. Visualizza te stesso in relazioni amorose piene di gioia e armonia. Vivi l'emozione di viaggiare in destinazioni esotiche, esplorare nuove culture e immergerti in esperienze arricchenti. La visualizzazione non è solo un pensiero desideroso, è una tecnica potente che allinea il tuo subconscio con ciò che desideri davvero. Praticando regolarmente esercizi di visualizzazione, programmi la tua mente per il successo e crei una tabella di marcia per raggiungere i tuoi obiettivi. Fai della visualizzazione un'abitudine quotidiana. Dedica almeno dieci minuti al giorno a visualizzare scene specifiche della tua vita ideale. Coinvolgi tutti e cinque i sensi il più vividamente possibile. Vedi i colori vibranti, senti i suoni intorno a te, avverti le texture sotto i polpastrelli, annusa gli aromi invitanti, assapora i sapori che esplodono sulla tua lingua. Mentre sfrutti il potere della visualizzazione, ricorda che ogni grande successo inizia con un sogno fermamente tenuto nella mente di qualcuno. Quindi osa sognare in grande, credi fermamente in ciò che è possibile per te e intraprendi azioni ispirate per trasformare quei sogni in realtà. Il tuo successo ti aspetta. Visualizzalo nell'esistenza. Abitudine numero 16. Padroneggiare la gestione del tempo. Se stai lottando per trovare abbastanza ore nella giornata, è il momento di padroneggiare la gestione del tempo. Hai il potere di prendere il controllo del tuo programma e far sì che ogni minuto conti. Il tempo è una risorsa preziosa e, imparando a gestirlo efficacemente, puoi raggiungere risultati incredibili e vivere una vita di libertà e realizzazione. Il primo passo per padroneggiare la gestione del tempo è stabilire obiettivi chiari. Cosa vuoi realizzare? Quali sono le tue priorità? Una volta che hai una visione chiara di ciò che desideri ottenere, suddividila in piccoli passi concreti. Questo ti aiuterà a rimanere concentrato e organizzato. Successivamente, impara a dare priorità ai compiti in base all'importanza e all'urgenza. Ogni mattina, prenditi un momento per rivedere la tua lista di cose da fare e identificare i compiti più importanti che richiedono la tua attenzione. Affrontando questi compiti per primi, sentirai un senso di realizzazione e slancio che si protrarrà per il resto della giornata. Un altro aspetto cruciale della gestione efficace del tempo è eliminare le distrazioni. Identifica ciò che ti distrae di più, che sia i social media, le email o altre persone e crea dei confini attorno a queste distrazioni. Stabilisci orari designati per controllare le email o scorrere i social media in modo che non occupino l'intera giornata. Infine, ricordati di prenderti cura di te stesso. Una corretta cura di sé è essenziale per mantenere produttività e concentrazione. Assicurati di dare priorità all'esercizio fisico, a una dieta sana, al sonno adeguato e al tempo di relax. Quando ti prendi cura di te fisicamente e mentalmente, avrai più energia e chiarezza durante la giornata. Padroneggiare la gestione del tempo richiede pratica, ma con determinazione e coerenza la liberazione dai vincoli del tempo diventa possibile. Quindi, prendi il controllo del tuo programma oggi. Stabilisci obiettivi chiari, dai priorità ai compiti, elimina le distrazioni e prenditi cura di te, perché quando padroneggiamo le nostre abilità di gestione del tempo, creiamo spazio per la crescita, il successo e la libertà. Abitudine numero 17 Coltivare l'abitudine alla lettura Per coltivare l'abitudine alla lettura, dovresti iniziare scegliendo libri che si allineano con i tuoi interessi e trovare il tempo nel tuo programma da dedicare alla lettura. La lettura non è solo un passatempo. È un'opportunità per crescere, imparare e liberarsi. Il potere delle parole può trasportarti in nuovi mondi, introdurti a prospettive diverse e sfidare le tue credenze. Immergendoti nelle pagine di un libro, aprì te stesso a possibilità infinite. Fai in modo di ritagliarti del tempo ogni giorno per leggere o ascoltare audiolibri, come stai facendo ora. Potrebbe essere necessario fare qualche aggiustamento nel tuo programma o fare dei sacrifici in altre aree, ma le ricompense saranno incommensurabili. Dedica momenti dove puoi immergerti nelle parole scritte e lasciar volare la tua immaginazione. Che siano le prime ore del mattino, quando il mondo si sveglia, o le tarde notti, quando tutto il resto è tranquillo, trova quei frammenti di tempo che sono dedicati esclusivamente a nutrire la tua mente e il tuo spirito. Ricorda che la lettura dovrebbe essere piacevole, quindi scegli libri che ti risuonino personalmente. Che siano fiction o non fiction, autoaiuto, spiritualità o poesia, segui le tue passioni ed esplora gli argomenti che suscitano curiosità in te. Cerca autori che ti ispirano e storie che riflettono il tuo cammino personale. Abbracciare l'apprendimento continuo va di pari passo con coltivare l'abitudine alla lettura. Mentre ti addentri in diversi generi e argomenti, accogli la conoscenza acquisita da ogni pagina girata. Lascia che ogni libro diventi un insegnante, guidandoti verso la crescita personale e l'illuminazione. Abbraccia l'apprendimento continuo attraverso la lettura come un mezzo di liberazione, liberandoti da credenze limitanti e sbloccando un potenziale infinito dentro di te. Inizia oggi e guarda come il mondo si espande davanti ai tuoi occhi. Abitudine numero 18 Superare la procrastinazione Superare la procrastinazione è essenziale per la crescita personale e per raggiungere il successo in vari aspetti della vita. È tempo di liberarsi dalle catene che ti trattengono e prendere il controllo del tuo destino. La procrastinazione è un'abitudine che drena la tua energia, ruba il tuo tempo e ti impedisce di raggiungere il tuo pieno potenziale. Ma non temere perché hai il potere dentro di te per sconfiggerla. Tutto inizia con un cambiamento di mentalità. Invece di rimandare le cose a domani fai di oggi il giorno in cui agisci. Abbraccia la convinzione che ogni momento conta e che affrontando i compiti direttamente sei un passo più vicino ai tuoi obiettivi. Ricorda la vera liberazione viene dall'affrontare le sfide a testa alta e rifiutare di lasciare che la paura o la pigrizia dettino le tue azioni. Per superare la procrastinazione stabilisci obiettivi chiari e suddividili in compiti più piccoli e gestibili. Questo aiuterà a prevenire il sovraccarico e ti consentirà di concentrarti su un compito alla volta. Agisci in modo deciso immediatamente invece di aspettare il momento perfetto o di sentirti abbastanza motivato. La motivazione segue l'azione. Inizia con poco ma inizia ora. Elimina le distrazioni che ti allontanano da ciò che conta davvero. Spegni le notifiche sul telefono, chiudi schede inutili sul computer e crea uno spazio di lavoro dedicato libero da disordine. Circondati di persone che ti ispirano e ti motivano. La loro energia alimenterà il tuo impulso verso il successo. Tieniti irresponsabile tracciando i progressi quotidianamente o settimanalmente attraverso il journaling o l'uso di app per la produttività. Celebra ogni traguardo raggiunto lungo il percorso per quanto piccolo poiché questo rafforzerà le abitudini positive. Abitudine numero 19 Dare priorità allo sviluppo personale Dare priorità allo sviluppo personale è cruciale per la crescita continua e per raggiungere il successo a lungo termine in vari ambiti della vita. Hai il potere di plasmare il tuo destino di diventare la migliore versione di te stesso. Tutto inizia con una semplice decisione la decisione di investire nella tua crescita e sviluppo personale. Prenditi un momento per riflettere su dove sei adesso e dove vuoi essere. Quali competenze hai bisogno di acquisire? Quali conoscenze devi guadagnare? Prendi un impegno oggi per dare priorità al tuo sviluppo personale e agire verso i tuoi obiettivi. Inizia stabilendo obiettivi chiari e specifici per te stesso. Suddividili in piccoli passi gestibili su cui poter lavorare ogni giorno. Non aspettare solo le opportunità. Creale. Cerca nuove esperienze, sfidati e esci dalla tua zona di comfort. Abbraccia il fallimento come un trampolino di lancio verso il successo. Investi tempo nell'apprendimento e nell'acquisizione di nuove abilità. Leggi libri, partecipa a workshop o seminari, segui corsi online, qualunque cosa serva per ampliare la tua base di conoscenze. Circondati di persone affini che ti ispirano e ti motivano. Trova mentori che possano guidarti nel tuo percorso. Ricorda, lo sviluppo personale non è un processo immediato. Richiede sforzo costante e dedizione. Rimani impegnato anche quando incontri ostacoli o battute d'arresto lungo il cammino. Dare priorità allo sviluppo personale significa porre le basi per il successo in tutte le aree della tua vita. Relazioni, carriera, salute e benessere generale. Ora che hai compreso l'importanza della crescita personale, approfondiamo un'altra abitudine potente che può migliorare il tuo percorso. Praticare la consapevolezza. Abitudine numero 20. Praticare la consapevolezza. Per sperimentare veramente i benefici della pratica della consapevolezza, devi coltivare un senso di consapevolezza del momento presente e adottare un atteggiamento non giudicante verso i tuoi pensieri ed emozioni. La consapevolezza riguarda l'essere pienamente presenti in ogni momento, prestando attenzione ai tuoi pensieri e sentimenti senza farti coinvolgere o giudicarli come buoni o cattivi. Si tratta di accettare ciò che emerge con braccia aperte, sapendo che ogni esperienza ha qualcosa di prezioso da insegnarti. Quando pratichi la consapevolezza, entri in contatto con il potere del momento presente. Diventi consapevole dei pensieri che vanno e vengono, come nuvole che attraversano il cielo. Impari a osservare le tue emozioni senza lasciarti travolgere da esse. Questo ti permette di affrontare le sfide della vita con chiarezza e compostezza invece di reagire impulsivamente. Coltivando la consapevolezza del momento presente, ti liberi dalle catene dei rimpianti del passato e delle ansie del futuro. Diventi un partecipante attivo nella tua stessa vita, pienamente coinvolto in ogni momento mentre si svolge. Non più appesantito da preoccupazioni su ciò che potrebbe accadere o rimpianti su ciò che è già passato, sei libero di concentrarti su ciò che conta davvero. Il qui e ora. Praticare la consapevolezza non è sempre facile, specialmente nel nostro mondo moderno e frenetico pieno di distrazioni. Ma con impegno e dedizione costanti diventa un'abitudine che può trasformare la tua vita. Inizia in piccolo, dedica alcuni minuti ogni giorno per sederti tranquillamente e osservare il tuo respiro o semplicemente presta attenzione alle sensazioni nel tuo corpo mentre svolgi le tue attività quotidiane. Man mano che incorpori la consapevolezza nella tua routine quotidiana, costruire la resilienza diventerà più facile perché la consapevolezza aiuta a rafforzare la tua capacità di rimanere calmo in mezzo alle avversità. Potenzia la tua capacità di adattarti e riprenderti dalle situazioni difficili. Quindi, entriamo più a fondo su come possiamo costruire la resilienza nelle nostre vite. Abitudine numero 21 Costruire la resilienza Quando si costruisce la resilienza è importante riconoscere che battute d'arresto e sfide sono una parte naturale della vita. La vita è piena di alti e bassi, ma è il modo in cui rispondi a questi ostacoli che definisce il tuo carattere e determina il tuo successo. Invece di lasciare che le battute d'arresto ti definiscano, usale come trampolini di lancio verso la crescita e la liberazione. La resilienza non riguarda l'evitare il fallimento o il fingere che tutto sia perfetto. Si tratta di affrontare le avversità a testa alta, abbracciare le sfide e andare avanti con determinazione incrollabile. Si tratta di credere in te stesso anche quando le probabilità sembrano essere contro di te. Per costruire la resilienza devi prima coltivare una mentalità positiva. Allena la tua mente a vedere le battute d'arresto come opportunità di crescita piuttosto che ostacoli sul tuo cammino verso il successo. Le battute d'arresto non sono fallimenti, sono semplicemente deviazioni che ti indirizzano verso un risultato migliore. Agisci stabilendo obiettivi e suddividendoli in passi più piccoli e raggiungibili. Questo ti aiuterà a rimanere concentrato e motivato durante i momenti difficili. Circondati di persone di supporto che credono nel tuo potenziale e possono fornire guida quando necessario. Ricorda, costruire la resilienza non è una cosa che si fa una volta. È un processo continuo che richiede sforzo costante e autoriflessione. Abbraccia il fallimento come un'opportunità di apprendimento perché ogni battuta d'arresto contiene lezioni preziose che ti spingeranno avanti nel tuo viaggio verso la libertà. Abitudine numero 22 Abbracciare il fallimento come un'occasione di apprendimento Abbracciare il fallimento come un'opportunità di apprendimento è essenziale per la crescita personale e lo sviluppo. Il fallimento non è qualcosa da temere o evitare è una parte inevitabile del viaggio della vita. Quando abbracci il fallimento ti apri a nuove possibilità e opportunità di crescita. Invece di soffermarti sui tuoi fallimenti usali come trampolini di lancio verso il successo. Prendi le lezioni apprese da ogni fallimento e applicale a futuri progetti. Vedi il fallimento come un'opportunità per conoscere meglio te stesso i tuoi punti di forza e le aree che necessitano di miglioramento. Ogni battuta dal resto porta con sé preziose intuizioni che possono spingerti in avanti. Ricorda il fallimento non ti definisce ti affina costruisce resilienza e carattere rendendoti più forte di fronte alle sfide. Abbraccia il disagio che accompagna il fallimento sapendo che è un passo necessario sul cammino verso la grandezza. Quindi non lasciare che la paura ti trattenga dal provare nuove cose o prendere rischi. Abbraccia il fallimento con entusiasmo e curiosità. Esci dalla tua zona di comfort e osa fallire in modo spettacolare. Celebra ogni errore come un segno che stai spingendo i tuoi limiti e crescendo come individuo. Abbracciando il fallimento come un'opportunità di apprendimento coltivi una mentalità di crescita una in cui le battute d'arresto sono viste come opportunità piuttosto che ostacoli. Questo atteggiamento non solo gioverà al tuo sviluppo personale ma ispirerà anche coloro che ti circondano a fare lo stesso. Mentre continuiamo questo viaggio verso la trasformazione personale esploriamo come coltivare uno spirito di dono e contributo possa ulteriormente migliorare le nostre vite e quelle degli altri intorno a noi. Abitudine numero 23 Coltivare uno spirito di dono e contributo Coltivare uno spirito di dono e contributo può portare una grande gioia e soddisfazione alla tua vita. Quando prendi la decisione consapevole di restituire agli altri non solo impatti le loro vite ma provi anche un profondo senso di scopo e soddisfazione dentro di te è attraverso atti di generosità che tocchi la vera essenza dell'umanità la capacità di elevare e sostenere l'un l'altro dare non deve sempre essere sotto forma di beni materiali o denaro può essere semplice come prestare un orecchio offrire parole gentili o condividere il tuo tempo con chi ne ha bisogno essendo presenti per gli altri e mostrando genuina cura paura ed empatia crei un ambiente in cui le persone si sentono viste ascoltate e apprezzate il contributo va di pari passo con il dono riguarda l'uso delle tue abilità talenti e risorse uniche per avere un impatto positivo sul mondo intorno a te che si tratti di fare volontariato in un ente di beneficenza locale fare da mentore a qualcuno in difficoltà o iniziare progetti che affrontano questioni sociali a te vicine ogni atto di contributo aggiunge valore non solo alla società ma anche alla tua crescita personale quando coltivi uno spirito di dono e contributo ti liberi dalle catene dell'egocentrismo e ti apri a infinite opportunità di crescita ti rendi conto che la felicità non risiede nell'accumulare beni ma nel creare connessioni significative con gli altri le tue azioni diventano allineate con i tuoi valori portando a maggiore soddisfazione e liberazione dai superficialità della società quindi abbraccia questo spirito con tutto il cuore inizia in piccolo trovando modi per restituire all'interno della tua stessa comunità cerca organizzazioni o cause che risuonano con le tue passioni e interessi e ricorda ogni atto nessun gesto è troppo piccolo quando viene dal cuore con amore e compassione insieme costruiamo un mondo dove il dono diventa una seconda natura dove tutti comprendono che sollevandoci l'un l'altro ci eleviamo tutti insieme verso la nostra liberazione collettiva conclusione incorporando queste abitudini nella tua routine quotidiana hai il potere di trasformare la tua vita ricorda la coerenza è fondamentale sapevi che secondo uno studio condotto all'università di harvard la meditazione regolare può ridurre l'ansia e i livelli di stress del 40% immagina l'impatto che potrebbe avere sul tuo benessere generale quindi agisci ora e fai di queste abitudini una parte della tua vita affronta le sfide coltiva una mentalità positiva stabilisci obiettivi pratica la consapevolezza e non avere mai paura di fallire il tuo viaggio verso una vita migliore inizia oggi grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto